ciao amici di horizon forbidden west horizon 2 nel lontano ovest amici miei incominciamo con farvi vedere il solito filmato introduttivo per capire di che cosa stiamo giocando se non avete visto il primo che è tutto sul mio canale youtube andiamo con il mitico twitch a scoprire le grandi gesta eroiche di aloi e marco drums games in horizon 2 forbidden west partiamo col filmato mi muto e ci vediamo dopo dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza una domanda mi logorava come è nato il nostro mondo i predecessori morirono mille anni fa causando l'estinzione della vita lei mi ha mostrato come rifiorì una giovane emarginata ignara della sua importanza grazie a lei ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita zero tome un sistema di terraformazione con nove funzioni subordinate ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido a curito protetto dalle macchine e con lei scoprì il segreto più grande di tutti il segreto della sua nascita lei è un clone di elisabeth sobek creatrice di zero dawn sorto per impedire una nuova estinzione opera di ade punia malevola resa senziente da un segnale misterioso di origine sconosciuta e con un mio piccolo aiuto lei ha prevalso nella battaglia finale ameridiana diventando una paladina dell'umanità ma per quanto mi sia stata utile ora sono costretto ad abbandonarla perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di ade io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità eccoci qui grandissimi ragazzi amici e mitiche e mitici mitichi mitico mitica mitici mitichi giusto? ci sta allora i tempi di caricamento sono al zero ieri sera ce l'avevamo fermati qua ok abbiamo visto tutta la storia no 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 non devi lasciarla giù ah ci c'è ok qui c'era un cassone allora visto che l'ho vista ieri sera la storia non vorrei che devo rivedermela vabbè se no la rivediamo insieme vediamo se parte esattamente non parte e pure il pannello un bel bauletto non l'avevo visto non l'avevo visto ragazzi graficamente spettacolare guardate lei anche quando fa l'avete vista? che deve tirare fuori la roba pesante che faccia? grandissima ho curato ogni minimo dettaglio ecco ecco che si è aperto allora stamattina ho giocato con werewolf molto bello ragazzi è sul mio canale e con farming adesso non mi ricordo qui i tasti lassù c'è un altro pannello che potrei aprire dovrò salire qui in alto per raggiungerlo assolutamente no ah ok sai perché devo andare via? ok perché devo abbassare la scaletta vedi minchia che buscio allora lì si va sulla scaletta oh cricchio fermo? proviamo col gancio uscio di culo da qui non riesco a raggiungerlo con il rampino mi tocca saltare allora oh 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 grande guardate la faccia che ha fatto il gesto di di dolore quasi impossibile saltare ma se planassi ah eh effettivamente io devo andare là la madre vabbè intanto comincia prendiamo non mi ricordo mai che lei non è di quelle con la xx che fa il salto lunghissimo adesso per andare su di qua no non dirmi che devo far tutto il giro credo proprio di sì raga e invece sì ragazzi amici miei devo far tutto il giro però non devo far più quello perché ho la scala grande scala allora dai marchito sai ho sbagliato amici fa tutto in fretta devo tenere il premuto quadrato per fare la planatura la planatura ho sbagliato amici e tre raga vabbè sì perché è lontano cioè voi dite e tre volte fa la stessa animazione ebbè sì è lontano porca a me ci vuoleva tantissimo porca non ci credo mi ha scrincato il cervello rimarrò qua tutto il pomeriggio amici miei e c'è il tipo che ha fatto la speed run quando tre ore ma mamma come cazzo siete messi ragazzi come cazzo siete messi non c'è 465 comunque io voglio prendere quella cassa quella cassa che è là non posso raggiungere la porta da qui ecco niente allora la cassa era impossibile fare come volevo fare io qui dì già fare ce po' Ah, non è come finire. Ma No raga avete visto che cazzo è successo Vabbè dai Allora secondo me Non c'è verso di andare da lì Allora tutto bene Nessuno dice niente Ok Stai calma Grazie che ogni tanto viene fuori il tutorial ancora Allora ragazzi Qui No ma sei serio che qua era solo per prendere questa cassa da Del cavolino di Bruxelles Io non credo che C'era tanto altro da prendere Ciao Ilenza Mitico Grandissimo Hai visto che gran figata sto gioco Come dico sempre io Che figo figata Forse forse No 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 Che cos'era quello che era uscito fuori Era uscito fuori Ok Siamo su Horizon Ah qui è quello di prima No ma di qui non si può saltare su Non si può Non si può Non si può Horizon 2 Forbidden West Gioco fighissimo Adesso io devo cercare di andare dall'altra parte Sto diventando pazzo Pazzo Pistico pazzo Ok Ciao ciao ragazzi grandi Che entrate dentro A salutarmi Siamo un po' di tempo insieme Io dopo che ieri Ho saputo che uno Ho fatto la speed run in tre ore Abbasso Abbasso le maglie Ti bacio le maglie Perché io È tipo 20 minuti che sono qua Quindi Allora Vedete Io devo andare lì Ma da lì dopo Ok Perfect zone E da qui da dove chiesto Andare Non è che c'è Tu vuoi dirmi Che devo andare là E come vado là Da qua Eh sì Eh sì Marchito Ciao Buona pregali Ciao Mitica Come stai Non posso agganciare il ravino No Ciao Ciao Tutto bene Sì sì Benissimo Figata È un gioco Bellissimo Bragali E Io devo capire Come cazzo andare là Scala di metallo Ma tu mi vuoi dire Che adesso Io posso planare Tu mi vuoi dire Che io posso planare Io devo planare Schiaccia quadrato Marco Grande drums Ma quanto è bravo Marco drums Non è morto Ah sto scherzando Allora io Non metto la mia web Ragazzi Perché questo gioco È talmente bello Che non voglio Oh questo qui È incredibile ragazzi Bisogna schiacciare tantissimo Per fare questa roba Questi esplodono Grande ragazzi Questi esplodono Guarda Boom Kaboom Un'altra porta chiusa Allora andiamo qua Perché Senz'altro C'è qualcosa da prendere Questo qua Devo fare così Santo cielo Che volume c'è là fuori Fuori dal campo Antirumore 150 decibel Bene Un po' di privacy Che si dice Trev Vuoi vedere I peli di aloe Da sti Faccio vedere tutti Anche quelli Dalle cosce Non so Perché Troppo Parzente La gente Faceva fatto casino Per questo Impossibile Incredibile Questi sono state Farando con mia moglie Sì 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 Adesso ti li faccio vedere Sembra che il campo Antirumore Sia diminuito Per un secondo Tutto bene? No Io sto bene Ho qui un campo Personale Vedi? Al momento Le tue orecchie Non funzionano Ma Riesci a leggere La trascrizione Di quello che dico? Bene Ora Mentre alzo Il volume A 170 decibel Che ne dici Di inserire Il codice Di trasmissione? Ecco fatto L'hai inserito tutto? Ottimo Grazie Abbiamo finito Sicurezza? Hank Shaw È pronto Per il ritiro No Respira ancora Magari Portate una paletta Però A pezzi Allora Vediamo i peli Di aloe Ti faccio vedere C'è la modalità Foto Fammi vedere un secondo Ok Eccolo qua No Aspetta Troppo vicino Troppo basso Guarda 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 i pelini Dove? No C'è troppo bordello La scuoca Però che figa Sì Puoi farli Con le foto Pazzesche Già Al web C'è Migliaia di foto Ok Quindi Ok Riprodotto L'audio L'ho riprodotto Una bella cassa Un sacco di roba Fichissima Posso metterlo Nella mia scorta Un altro Sizzalto qui Non lo leggerà lui Vediamo No Solo tre Vi ho scrivato Dei vecchi file Del progetto Gosman Precedente a Ade Ted Non è così Sveglio Come crede Che combinavano I suoi amici Uno Plattino Dei Piacerebbe Venerti all'opera Farti diventare Un po' Prima Che Allora Adesso Devo andare Dove Questa Non mi si apre Ragazzi Secondo me Era tipo Collezionabili La vedo più Come una porta Da collezionabili Questa Che è una porta Da No Pure qua Mi dice D'andare Eccolo qua No Io non ho letto Da nessuna parte Grande drums Vediamo se c'è un codice Perché chiaramente È noioso leggere Allora Vediamo un attimo Allora ti trovi Non c'è codice qua Allora solo Quell'altro Che ho saltato Di leggere Però non ho visto Il numero 7482 Vediamo? Me lo ricordi Che è ora Che vado là Poi se sbaglio Anche il tasto Allora No Non è questo 7482 7482 7482 Porca misera Tirando a indovinare Non farai molta strada E infatti c'era No ma io l'ho letto Allora 7482 4 8 2 Benissimo Grande amore mio Tirando a indovinare Non farai molta strada È bellissimo Eh? Eh grazie Tirando a indovinare Non farai molta strada È veramente una figata Le ambientazioni sono Pazzesche Eh? Schiaccia Schiaccia qui Darle due dietro Per sentire quanto devi Forse Quanto devi portare Eh? Eh? Basta Se no è muore Ok Saltiamo Non anche quanto si stanca Nei combattimenti Fa così Ti diventa duro Allora Vediamo un attimo Dove cazzo Questa è una rampa Di aria 10D Oh Saltino Laterale Incredibile Incredibile Qui non c'è un cavolino Di Bruxelles Oh oh Questo che cos'è? Rassegnati Tilda Zero Dawn Ha avuto le camere Eptogeniche A Farzenit Serve il database Apollo Questo incidente Non voi Volevate rubare Gaia Io non c'entravo niente E avete già punito I responsabili Hanno ripristinato I sistemi vitali Dopo la vostra bomba logica Vuoi davvero farmi credere Che tu non ne sapevi niente? Ti prego Liz L'umanità rischia Già moltissimo So che non approvi Il nostro piano Ma se fossimo i soli A sopravvivere Non dovremo avere Apollo Per ricordare La nostra storia I nostri sbagli Ti scongiuro D'accordo Avrete una coppia di Apollo Grazie Parliamone meglio Prima di Addio Tilda Basta Chiudiamola qui Ok Poverina Non so perché Ho detto Poverina Ci sta però Ecco la porta Mi avvicino Porco Noo 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 Da dove si riusciva a farlo? Davvero? Noo 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 Devi rifare tutto Un pezzo Attenta aspetta che devo risentirli mica che poi non mi ricalcolo come collezionabile ok ma perché a volte se rifratti il pezzo non ti riconta come collezionabile e mi girerebbe le scatole devo rifarmi una missione per collezionabile queste qui cacchio ma non ho sbagliato qualcosa sicuro perché non dovevo tuffarmi su di lì per forza no di qua mi sbaglio sempre faccio sempre gli stessi errori alla stessa maniera va bene abbiamo già sentito tida ecco la porta allora vediamo un attimo un po meglio tanto non ha tutte quelle cavolate che bisogna correre per fare le cose perché vedi allora no vedi non me l'ha fatto prima quando premi quadrato riesci io non vedo scalette no ah ma che scemo guarda dai c'è la scaletta devo di buttare giù la scaletta non ho buttato la scaletta ecco mi sei noto tre volte devo rifarmi tutto il giro da là in alto adesso devo vedere quale scaletta quale punto è il pezzo più basso aspetta qua prima che sono arrivato qui c'è la scaletta da qualche parte eccola qua eh dai questo gioco è fatto bene vedi se cado ritorno e sono qui dai devo morire devo rifar tutto da capo non è questa tipologia di gioco i soul sono fatti così quello che arriverà la settimana prossima è proprio fatto così che devi rifar tutto da capo ormai me lo ricordo a memoria adesso il prossimo è 842 grande ah devo ricordarmi che è quadrato per scendere non devo fare il cerchio ciao amici benvenuti allora dovete capire che io ho cambiato tre giochi stamattina e sbaglio i tasti scusate ma ecco la porta mi avvicino ok allora il gameplay è fatto benissimo ragazzi dove voi dite lei va ok ok marco marco drums games quadrato oh 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 c'è non è che ci voleva tutta sta fantascienza però eh eh mi sa di si sai non è che era semplice ne devo fare tutto un giro oh oh senta loi ma lei poi è cresciuta dal primo a questo beh si è diventata anche un po' di cicciotella io mi lancio sperando che lo prenda e adesso eh ma ce la fa arrivare ma io non so se ce la fa arrivare adesso si qui che cos'è che c'è qui là su vedi là bisognerebbe c'è una stanza speciale come ci arrivi da qua si davvero vedi quel robo là dall'alto da dove c'è un punto più alto dalla sopra magari quando ero là sopra planavo andavo qui potrebbe essere sai cazzo allora tu dici mi lancio plano e provo a provo a poi a drappare qualcosa madonna amore basta sei meravigliosa e adesso plano madonna ma sta cosa qui è mi fa venire un'ansia si scende uuh 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 amore ti amo grande tesoro eh qui è una stanza segreta che poi è per io che lo voglio platinare se no poi devo ritornare a farti certe cose o meglio perdere secondi nooo aspetta aspetta vai di là cazzo vabbè devo rifare il giro da qua mmm devo rifarmi tutto il giro no ma tu era una scala quasi è di là ma non ci vado era l'altra parte no no devo rifarmi tutto il giro vabbè dai non pensavo che l'esplosione mi faceva così male ti dico la verità anche perché non è c'è che c'è tanto spazio grazie che ho trovato la scaletta che me l'hai fatta vedere te amore la scaletta perché sono qui come facevamo come si faceva eh fa tutto il giro no dai è solo una rottura perché adesso devo farla devo farla veloce no di là no è proprio il pezzettino tac adesso va bene lo faccio veloce perché ormai ho imparato tac oh tutte le volte vado di qua hai notato che roba tac allora adesso non ho più l'ansia perché so più o meno cosa devo fare l'ha fatta un po' cazzo sta sto salto anche qui tutte le volte quasi da parlavano della peluria perché sai che devono dire le stronzate la gente sempre allora è questo qua sopra speriamo che ci sia dentro qualcosa di interessante perché sono tutto il tuo giro per una cassa di ammichios un orologio c'entra un orologio per un orologio davvero ragazzi ho fatto tutto sto cosa per un orologio allora e mo la posso rifare secondo te si grandissima grande eh sì il portato il pannello rallenta brevemente il tempo basta che questa porta funzioni perché lei è un clone della dottoretta quella che ha fatto tutto sto barodanti da zero down però anche lei era nel primo di tutte le due però di tutarsi questo lato questa è cresciuta sì 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 e poi anche Ciccettella un'altra identità che è cresciuta proprio i guadagni no? eh sì la poluzia e certo diventa anziana un'idea era un'identità genetica confermata salve dottoressa subeck mi mettevano sempre più suero eh esatto quella era la cosa che no no cos'è sta roba oh bene si sta attivando che brutto rumore bene si sta attivando è molto pesante fai attenzione almeno c'è energia e qui ci sono dei dati pare che questo ragno eremita sia un apparato di collaudo per Gaia e Ade controllerò quel pannello d'accesso sì procedi che non si anima che diventa un boss eh ti chiedo solo questo Aloy bene credo che quei dischi siano degli archivi uno con le copie di Ade l'altro con Gaia ma quelli sono dei dirti da taglio Ade è accessibile ma l'archivio di Gaia è bloccato allora sbloccalo devo staccare il cavo dal giunto del braccio quello quello spero che tu non l'abbia danneggiato beh beh allora lo prego io dovrei riuscire ad accedere a disco ah è solo così ma è dove era un disco io pusevo che era una lama da taglio che mi traccava la testa cominciavo a preoccuparmi dati ridotti memoria 98% non è possibile Gaia era una super intelligenza immensa non è plausibile aia arrivano le macchine root kernel nessuna funzione subordinata non è una copia completa no è simile a un seme da cui Gaia potrebbe crescere se avesse sotto funzioni con cui creare una matrice euristica quindi è inutile temo che lo sia senza sotto funzioni aloi hai fatto il possibile per cosa niente forse nessuno può riuscire a salvare il mondo da solo neanche tu aspetta aspetta è inutile senza sotto funzioni ma esistono sotto funzioni là fuori dici quelle originali sparse ai 420 quando Gaia si distrutta potrebbero essere ovunque non le troverai in tempo e anche se fosse il segnale le avrà modificate proprio come Ade non hai idea di quello è come pure buona se funziona valeva la pena hai trovato Minerva ma è disconnessa è nei monti a ovest di Canto Puro posso andare a prenderla speravo di trovare tutte le funzioni ma una è un buon inizio no? lo è recupera Minerva potrai usarla per avviare la matrice di Gaia se la risveglio mi aiuterà a trovare le altre sotto funzioni le recupero e e la ricostruisci pezzo per pezzo molto scaltra non salverò il mondo da sola si si è vero sembra un film Braga ci sei ancora in lenza? mitico? a noi ascoltami attentamente gli intrusi vogliono quello che vuoi anche tu rianimare Gaia e il loro scopo amici tuoi? no non mi conoscono l'impulso che ho trasmesso per indicare la presenza di una possibile copia era anonimo sono molto potenti ma non ti faranno male non quando capiranno chi sei cosa sei un clone di Elizabeth Sobek una chiave con cui riavviare Gaia e ricostruire il sistema gli servi ti ho avvertito Silence per una volta Aloy accetta l'inevitabile apri il portello ricostruisco Gaia salvo la terra e poi ti trovo e ti uccido io sto solo cercando di aiutarti a spiarmi ora ecco un nuovo focus senza spyware ah eccolo qui quello della Collector Edition un nuovo focus non mi importa quanto sono potenti la chiave del portello sono io la domanda è troverò una via d'uscita c'è corrente nell'acqua non molta ma che si possa uscire identità genetica confermata ingresso autorizzato salve dottoressa sopra prego può entrare promettente beta grazie a tutti c'è l'abbiamo fantastico l'impulso arrivava da qui qualcuno qualcosa non va bene qualcuno sa cosa diavolo ci fa qui un clone di Elisabeth Sobek magari l'ha creata Gaia quando si è distrutta cercava di riparare il sistema non mi convince no non mi piace non mi serve ma le no una basta e avanza Eric sì che ne dici di ridurre il personale certo e se ha inviato lei l'impulso un'idea sciocca col senno di voi ma abbiamo quello che volevamo quindi facciamone buon uso spezza un sacco di colli in VR ma quel tremito quando la vita abbandona gli occhi non è lo stesso muovi ancora la bocca è un ottimo bersaglio credi davvero di potermi ferire con quella robazza primitiva dai che ci divertiamo oh cazzo e adesso che uomo di mio come è che la cistola fa forse riesco a far cadere l'intero processore lo farò scendere usando quella console quella sarebbe un'arma è troppo vicino non ce la faccio porca il colore sta svanendo vabbè già che c'ero ho preso anche mi cazzo la console vai vai oh no cazzarola non servirà a niente ragazza sì vieni qua c'è certo ciccetto grigetto porca porca ahahaha mmm ops e allora come faccio ammazzarlo ok colpisci ah questi no fai cazzo che sono i giunti i giunti è un boss porca ma sta massando nulla ma d'orculus oh stai calma cazzo che ho queste munizioni oh la la perché questo continua ci sono altri due giunti collegati al perno non vatti con me non badare a quella fase eccolo qua ancora uno eccolo qua eccolo là boom shakalaka oh se quella cosa avviene tu ti do per ucciderlo meglio che lasciare a te il divertimento non 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 Cosa faccio? Sto uccidendo quella che volevi morta? Che cosa pensavi? La piattaforma è crollata insieme al corpo Certo In fondo tieni sempre tutto quello che vuoi, no? Spectre Cercate Vuol dire che arriva lui? E... No raga, mi sa che faccio una brutta fine Mi sono un po' perso Eh sì E non lo so Sono sopra la sua strada Buogna Povera No 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 E' vero Sull'uscita Vedi qui Vedi che ci sono questi luminosi? Ah è qui Ma dai Mi sono perso da Da scemo unito Vedi Porca loca Dai Oh Oh Ah beh Grazie Con zero munizio Con zero cure Eh sì Mi hai detto giusto Allora Allora io come ci arrivo là Io come ci arrivo là Come posso uscire da qui Ah no Con mi scopo Sì 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 Cazzo che bello il nuovo Il nuovo auricolare Cazzo Spalano questi Cazzo Uh raga Ah ecco Va verso un'uscita Eh Sì C'è una motivazione Plausibile Qui c'è qualcosa Aspetta Apro poi riprendo Aria Perché Ho già fatto metà Solo per aprire la cosa Ok Andiamo 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 Oddio Loi Ah Che bello Chiaramente C'è 170 milioni Di Salute Ok 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 Qua non c'è Niente Questi macchinari Producono energia La corrente porta qui Interessante Effettivamente Ha ragione Ah Sì È il nostro amico Che Prima c'ha Perfetto Perfetto Mi ha troppo Porca Ah Ti pareva Che Ok Di là Non posso Tavare indietro Perfetto Proprio Ma Porca No L'abbiamo Buttato fuori Dai Via 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 Prima che Ci arriva Un mattone In testa No 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 Che arriva La roba Vado Solo Ahi Oh Caspita Rosta Rosta Eh no Ha visto Rosta Invece Suo Amico Ho trovato Io Devo Ehi Piano Fa piano Ho pensato Fosse Importante Lo stringevi Dove siamo In un avamposto Della tribu Utaru Sei caduta Qui vicino Da quanto Due giorni A noi Non c'è tempo Ho scoperto qualcosa Nei monti A ovest Di canto puro Sì Continuavi a ripeterlo Ma qualunque cosa Tu abbia trovato Ora non puoi Striscerò Se devo farla Sì Va bene Ma prima di farlo Dovresti parlare con lui Della tribu di Dice che le montagne Sono pericolose Le macchine Escono da una caverna È una coincidenza Eh Non credo io È in Territorio Utaru Il suo Territorio Lei può aiutarci Vedrai Bene Presentami La tua grande So Non deve alzarsi A noi Fai di testa sua Tu sei So Varlo mi ha detto Di parlarti Delle macchine Nei monti A ovest Di canto puro Sono una Cantamorre Il mio posto È qui Parleremo Più avanti Cosa ha quello Lei È re Non Quello È un terranome E sta morendo Non solo Morendo Sta soffrendo La sua condizione Non ti riguarda Su Se qualcuno Può aiutarci È Aloy Posso Oh raga 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 Cosa succede Quello Quello che sto per fare Sembrerà brutto Ma aiuterà Lancia Ma aiuterà Scrippi Anche dobbiamo parlare va bene le montagne a ovest di canto puro ci sono problemi gli utaro hanno problemi ovunque campi ammalati insediamenti abbandonati ma non come la caverna tra i monti è un luogo sacro fa un'altra terranume ci è andata da tempo ma non è uscita delle macchine assassine sono sbucate al suo posto non era mai successo sei esperta di caverne sacre hai detto che la tribù ha problemi con campi e insediamenti sì se un tempo i terranumi producevano abbondanti raccolti oggi diffondono una piaga i tenakt si preparano alla guerra e i loro ribelli ci minacciano e le macchine sono più aggressive tanto che i villaggi remoti sono abbandonati escono anche da una caverna sacra molti paventano la fine della tribù purtroppo la situazione è così ovunque non perderemo la speranza grazie per averci accolti ringrazia varla che ti ha portata fino a noi dubito che altri ci avrebbero accolti né si sarebbero sincerati del benessere di aloe meno male che ci sei tu potrei dire la stessa cosa a quanto pare avete passato parecchio tempo insieme peccato solo che ci sia voluto il tuo incidente spero che tu guarisca presto re e le altre macchine simili per voi sono divinità terranumi sì ci hanno sfamati per generazioni seminando e mietendo i campi di canto puro cibo per tutti una miracolosa abbondanza una fattoria con macchine molto di più una benedizione che forniva sostentamento fino allo squilibrio per cui la caverna è sacra perché macchine come il re e quella che tu chiami fa entrano lì sì prima dello squilibrio i terranumi andavano sempre in pellegrinaggio in quella caverna c'era un ordine prima andò poi re poi mi e così via infangati per il lavoro nei campi uscivano dopo due giorni luccicanti senza un graffio né sporcizia né ornamenti sacri ogni ritorno corrispondeva a una delle otto festività comandate ma lo squilibrio ha cambiato il ciclo sì così pensavamo col tempo hanno interrotto il loro rito come in preda alla follia ma da tre settimane fa è entrata l'intera tribù allora ha levato un canto sperando che il ciclo fosse ripreso al posto di fa sono uscite macchine assassine le macchine nascono là dentro è un calderone così sembra ma il modo in cui quei terranumi vanno e vengono mai sentita una cosa così cosa è successo ai terranumi dopo lo squilibrio sono cambiati col tempo bellissima storia ragazzi a minuti mentre ora sono ostili loro ci attaccano invece di fertilizzare il suolo da diverse stagioni riversano troppo concime si è generata una piaga che si propaga anche in altre terre prima c'era cibo per tutti e adesso a malapena per i piccoli deve essere eccesso di fertilizzazione diffuso tramite spore forse non lo so e non è tutto i terranumi non vanno più alla caverna ogni anno non facendo più i rituali deperiscono come il re moriranno e anche la mia tribù hai detto di essere una canta morte che significa le cose viventi hanno sempre una fine con il mio canto ma io la addolcisco cerco di dare conforto la morte è il seme di una nuova vita però mai avrei pensato di cantare per un terranume chissà se il re ha sentito sei riuscita a placarla meglio di me non è colpa tua su non avendo la seconda vista hai fatto quello che potevi devo entrare in quella caverna che cosa nessuno può farlo beh ora di fare un'eccezione appartiene ai terranumi senti su c'è qualcos'altro lì dentro qualcosa che potrebbe risolvere problemi ovunque le tempeste lo squilibrio forse anche i terranumi rotti cosa può avere un tale potere uno spirito sì una cosa così potrei andare a canto puro riunire il coro raccontare loro di re e della tua richiesta di entrare ottimo prendo le mie cose deve riposare devi dirlo a lei sto bene riunire il coro richiede tempo guarisci poi vieni va bene riposo capito non le serve il tuo aiuto dai accompagnami a canto puro unisci la tua voce alla mia per convincere il coro lo farei lo farei ma credo che potrà bene davvero va bene a dopo esu aspetta non è non che non voglia venire con te è solo che io wow raga wow ai 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 poverina volevi dire questo sì non vedo l'ora di sentire altro sì anch'io tu dovresti riposare varl vai con lei posso guarire da sola vuoi liberarti di me per no stavolta no vi raggiungerò a canto puro ne sei sicura sì vai sparisci bene su ehi chi sono perfetto sono guarita wow è guarita veramente in fretta la nostra mitica eh sì ok questa è la roba che si va qui da una cacciatrice a un'altra lo zaino è pieno ma ho spazio nella scorta i pericoli della caccia richiedono equipaggi allora nessuna sacca potenziabile allora questo fare vabbè facciamola vai chi se ne frega e poi l'abito non fa il monaco scusate intanto per ah 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 allora hm 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 credo proprio di sì questo è il primo questo è adesso che è più fico però non posso potenziarlo perché mi ci vuole troppa roba eh sì non è che questo vedi una coda rasoio di fendi nubi per poterla potenziare se no non ce la faccio ciao cosa mi dai di buono cosa c'è oggi un bambino no è un uomo quindi che cosa vuoi il problema sono gli stranieri e oggi sei già la seconda che vedo prima ve ne andrete meglio sarà per il terreno così i semicorrotti non potranno attecchire credevo che alleviando il dolore del vostro tetanume mi sarei guadagnata un po' di rispetto re morirà in ogni caso proprio come tutti noi intanto gli stranieri vengono a prendersi quel poco che resta come la cacciatrice karja che ho visto prima vestita come un uccello e con una giovane utaru trattata come fosse una serva la chiamava turdido mai sentito prima deve essere un antico insulto karja una cacciatrice karja con un turdido utaru parliamo la stessa lingua si le ho viste oggi erano diretti a sud ovest verso morte certa non nascono spinofrutti laggiù troppe macchine povera utaru chiunque lei sia che i suoi semi trovino fertilità senza volerlo potresti avermi aiutata a ritrovare una vecchia amica grazie la tua gratitudine puoi tenertela magari ti da un po' di semi stupida per trattarmi male d'ammazzo guarda che figo era troppo no perché è una macchina che non avevo mai visto e credevo che se lo risparavo vedete che questo non posso perché è qua è stato tipo catturato o morto perché una volta che è morto non si può farvi niente credo come ragazzi me ne vado da sto scemonito di ah di qua devo incontrare e chiedere al foro il permesso di entrare nella ravella lì dovrei trovare Minerva potrò usarla per riavviare Gaia forse capirò anche chi erano quegli sconosciuti nel laboratorio oh oh cosa c'è da devo andare a Sudovest a trovare la macchina per capire cosa ci faccia qui e magari esplorerò per riavviare per riavviare per riavviare a figlio no non voglio un po' di riavviare ma non voglio un po' di riavviare eh tu voglio un po' di riavviare vuoi riavviare? Seguro non vuole lo prendo al volo che sono dentro l'albero la notificazione di Twitch mi raccomando amici miei di attivare le notifiche così sapete sempre quando sono in live e devo recuperare tutte le forze prendi i nubi porca oh 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 Che l'ho fatto ragazzi? Porca loca Abbiamo ancora preso tutti i bastardi che vengono in due vengono di queste merde Dai Incredibile Marco Ramos è morto Tre ore Io vedo solo quel tipo là in tre ore che cazzo ha combinato? Ciao ragazzi benvenuti 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 benvenute Allora sono appena morto come un uro aspetto Volevo ammazzare Io ho ammazzato una macchina nuova Forse capirò anche chi erano quegli sconosciuti nel laboratorio Ma prima devo andare a sud ovest a trovare una vecchia amica Per capire cosa ci faccia qui E magari ci vedremo Horizon 2 Forbidden West ragazzi Eccolo qua Il Mi serviranno presto Non è per niente ma Il strappo mi servono Mi servono per repelli Ok Lo prenderò dalla scorta se mi servirà Allora Volpe Con il coda frusta Non è per niente ma Non è per niente ma Non è per niente ma non so che parlo di demolizioni allora ragazzi creiamo demolizioni ci furiamo bella ragazzi ciao mitici mitiche ok peccato la batteria del cosa frusta ecco doveva arrivare anche l'altro ne poca puzzola sono due è una rottura oh la la senza munizioni no cazzo incastrattino gli alberi non 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 Ok cazzone Ciao ma Camilla mitica Sono Un combattimento da panico Vai 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 ce l'ho fatta Mitici mitica Come sai Uraga che combattimento E' venuto qua io tranquillo per Per prendere un po' di Di legnetti e di roba E mi sono imbattuto in due I cornasalti Lì come cazzo Ok per fortuna Dobbiamo tornare indietro Andiamo avanti con la storia Oh c'è qualcuno qua Non sia qualcuno che vuole Torniamo indietro Devo Devo Prendere solo per le peli Ragazzi Cosa frusta Ecco come si chiamava Lo metto nella scorta Per il momento Bene Dobbiamo trovare un sacco di batteria Devo prendere un po' Tutte le risorse Ragazzi Non è che lo faccio apposta A farlo stronzo Meglio averne un po' a disposizione Qui non l'avevo visto prima Ma c'è un altro Un bel bracere E c'è un tipo con cui parlare Vediamo cosa ha bisogno lui Pare ci sia un calderone A sud ovest Volevo andare a darci un'occhiata Ma con queste vecchie gambe Se incontrassi una macchina Sarai spacciata Stanne ben lontana allora Un calderone a sud ovest Immagino contenga degli override Che posso utilizzare Grande zone boy Mitico Hai visto che gioco Pazzesco eh Grande Grande Mi raccomando Tra i tuoi amici Ciao ragazzi benvenuti Mitici e mitiche Mitichi come dico io Ok Ok andiamo Allora Secondo me Posso anche Un rifugio Posso riposare E riparare l'equipaggiamento Ciao Ciao Mitici miei Mitici 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 Allora 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 Oh potenziamento Sa che Vediamo un attimo Ah si le frecce Assolutamente Si 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 E questo Il cibo Anche lui ci sta Anche lui ci sta Abito ancora niente Armi L'arco L'arco che è quello che uso Di più Vabbè per adesso Teniamo un attimo qua Le cose Allora salviamo che lui salva poi dal checkpoint Tutti i cambiamenti che ho fatto Oh 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 Come si fa ad andare su lì Stiamo ad andare su lì Vabbè dai ragazzi Fa niente Vediamo un'altra volta Cos'è sto lavoro Del tempo Non disponibile Vabbè Andiamo avanti Quindi andiamo di qua Si può andare di qua Si assolutamente Oh 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 Questa è una macchina nuova Il gelo mi tornerà parecchio utile Quindi nubi Fuora terra Eccola Eh si dobbiamo dare Quei tre sembrano di noi Aiutabili Non devo riuscire a passare Un'altra nera Me ne servono altre Oh la mi ha segato Eh ho fregato io la roba Oh oh la mi ha segato Ah Oh 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 io dovevo guerriera vediamo un attimo la più danni ci sta, intrappolatrice aumenta il limite massimo di vigore arma, questo è troppo questo però allora l'override resta attivo più lungo sulle macchine ma i punti erano solo quelli, non è vero? sì perfetto state bene? ci hai salvato la vita ma soprattutto hai salvato il nostro raccolto gli utaru ti sono debitori allora io sono Daen quello sarebbe un intero raccolto? la piaga rossa ha rovinato gran parte delle nostre coltivazioni quel poco che portiamo l'abbiamo preso a limitare delle pianure dove andate? a Canto Puro che si trova proprio lungo questa strada temo proprio che laggiù non troverai molti stranieri come te noi preferiamo stare per i fatti nostri ma se ti servono armi o provviste so che alcuni di loro faranno degli scambi con te tieni non è molto ma è il massimo che posso fare per ringraziarti non posso accettare ti prego ti semina gentilezze ne raccogli i frutti grazie Daen devi andare di che abbiamo il raccolto e che serve un guaritore giusto che la terra fiorisca al tuo passaggio vado anch'io se tornassi a Canto Puro condividiamo i pasti sul disco nord Daen fa il tuo colaggio di certo ti preparerà delle ottime razioni farò il possibile per andarci gentili allora diciamo la verità il figlio dovrei andare lì su di lui non è felice di vedermi ma porca che è a fuzzo la quando guardo da devo trovare un altro modo stronzo di uno quattro punti vita mi ha fatto forse tutte vigiande un generatore sembra spento quanto riguardano quattro punti stim cinema c'è solo di uno con l'altro mi ha fatto scuro prima mi servono le celle scusa ho bisogno delle pelle allora pensiamo su che io voglio una console spenta purtroppo non posso salire ma credo che questo coso lo ho la registrazione testuale che palla roger mi ha urlato addosso perché ho scoperto una più piccola aggiunta al protocollo delle parabole ma chi se ne frega di lui turisti se ne andavano matti un'altra volta riducendo la nota assegnata tramite gli autoparlanti d'emergenza perfettamente a ritmo la musica e matematica no fosse per me revocherei la laurea gli scienziati incapaci di apprezzare la trascendenza della scala musicale pazienza ripartirò dall'inizio da un ottimo inizio controllerò do e re battono la fiacca ultimamente è meglio dare una pulita a loro rotoli d'allenamento se riuscissi a capire come effettivare l'energia potrei spostare un po' di cose per arrampicarmi attra... Oh, guarda lì, RAPTORS! Oh, guarda lì, RAPTORS! L'ho buttata proprio giù! Ah, merda l'ho buttata! Allora, mostre, il Western Grand Hale, Rai è orgoglioso di presentare la mostra, occhi puntati al cielo, una nuovissima, ho l'esperienza panoramica, specie, vento di novembre, si ricorda, vabbè, sono collezionabili così. RAPTORS! Reattivate! Vediamo cosa mi dice quello che non so! Scopriamo a cosa serve! Mh! Mh! Un pezzo errore! Sto vivendo una parabola! Mh! 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 che buonanzaino! Un pezzo popolo! Poi è un pezzo roffare! Emo! Un pezzo, che mi pare scoperto! Un pezzo! Mh! Un pezzo! Un pezzo! Bene! Un pezzo! Un pezzo! Un pezzo! Un pezzo! Emo! Forbidden West, Horizon Zero Dawn 2. Stavo portando anche sul canale anche D-Light 2, aspetta raga No, non posso arrivare qui Eppure questa scaletta mi sembra buona da arrivare qui, eh No? Ok Quella là, che mette proprio dritta Infatti io avevo visto che c'era la scaletta, raga Allora Vediamo dove va il collo lungo Prima di tutto Vuol dire che viene di qui? Secondo me devo andare sul punto più alto Che è qui Perfetto È il momento del lungo Che spettacolo Calmo Ho quasi finito Che spettacolo Con gli lunghi inviano mappe ad altre macchine E adesso sono mie Punti abilità Sette mila e cinque E arriva di mappa Arriva la mappa, eh Adesso in teoria dovrei avere la mappa lunga Eh sì, eh sì Uuuuuh Guarda che roba Madonna Madonna, raga Bella la Ma quant'è grossa sta mappa Ma quanto è bello Guarda il collo lungo ragazzi Ok 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 Collo lungo è fatto Questa era una cosa che volevo, eh Nooo Chiamiamo il nostro amico Madonna, guardate che bello ragazzi Collo lungo E' proprio di qua che arriva E' proprio di qua che arriva Mi sposto un po' Incredibile Ok 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 Oh il sole Oh il sole Oh il sole Tutto Tutto brutto qua, eh Ci sono delle macchine che sono già cadute Delle macchine che sono già, o le ha ammazzate qualcuno Ok Allora La piaga qui è più diffusa Se non riuscirò a riattivare Gaia Tutto il mondo diventerà così alla fine Ok Aratro Un aratro Un aratro Ah questo sta dando una mano Non è cattivo Guarda che bello Degli Udaro, intenti a seminare piaga. Continuano a fare ciò per cui sono stati programmati. Anche se sta uccidendo tutto. Un'altra parabola. Poverino, muoiono. Si, perchè c'è questa roba qui che è schifosa. Ci vediamo tra poco. Come fanno vivere qua? Questo può guardarci. Strutture. Ma questa non è la pianta che stanno bene? Salute, amica mia. Siamo arrivati accanto puro ragazzi. Siamo arrivati accanto puro ragazzi. Una straniera accanto puro. Se vuoi sopravvivere da queste parti, non viene a parlare con me. Siamo arrivati accanto puro ragazzi. 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 Allora vediamo un attimo, qua ancora nulla ragazzi, con il rasoio, ma gli altri non è che lì, quella fionda potrei aumentarla di livello, effettivamente la fionda potrei farlo, anche se queste sono qua le basi, quindi, meno la blu cazzarola. Cosa ci fa una tenacta a canto puro? Mi rifornisco per i terreni di caccia, vieni anche tu, sono a nord-est di cui, una guerriera come te non dovrebbe tenere quelle sfide. Può darsela, forse verrò. Allora, canto puro. Ok, i terreni morenti. Dov'è che sono? Ma davvero, ma che figata sta roba. Che bello sto posto. Ecco ora. Scusa questa merda. Dov'è il tipi di... Dov'è il tipi di... Eccolo qua. Ah, sono loro due. Sono qui, come promesso. Cantano. Vuol dire che il coro è pronto? Si sono riuniti. Non ce l'avrei fatta senza parla. Ma non so se ti sarà utile. Nel coro c'è dissonanza. La caverna è un argomento spinoso. Fa il terranume è ancora là dentro. E ogni giorno altre macchine assassine vogliono uscire. Scagliandosi contro il cordone difensivo all'ingresso. Ed è solo la prima di tante stonature. La tua richiesta ha rivelato profonde fratture all'interno del coro e... Nella tribù. Non avresti riunito il coro senza di lui? Che hai fatto? Qualcuno del coro non voleva riunirsi a deliberare. Per loro la caverna appartiene ai terranumi. Ma Var l'ha visto ciò che hai fatto con Re e l'ha sfruttato. A volte chiedere a chi comanda non è sufficiente. Devono chiederlo anche altri. Più gente possibile. Abbiamo raccontato a tutti come hai placato Re. Forse potremmo aver esagerato un po'. Il crescente interesse ha fatto sì che il coro... ...decidesse di riunirsi. Ho già visto succedere con le matriarchie. Persino con mia madre. Un paio di volte. Ottimo. Gestirei tu la politica. Ah no. Scommetto che tu dovrai ancora aiutarci a convincerli. Mi rendo conto che la caverna sia sacra. Ma perché la mia richiesta ha creato questo trambusto? Il... Il trambusto c'era già. Parte della tribù e del coro vuole fare quello che facciamo da generazioni. Vale a dire niente. Ma altri vogliono un cambiamento. Una soluzione estrema. La tua richiesta ha ravvivato un dibattito. Giusto. Tradizioni. Mi ci sono già scontrata. Ma ogni tribù richiede un trattamento diverso. se lo dici tu. Quindi il coro è riunito. E ora? Valuteranno la tua richiesta. Non dovremmo parlarci. Quando sei pronta. Ma... Non temere. Il dibattito non finirà a breve. Queste assemblee possono durare il giorno di... Bene. Allora vado a fare rifornimento. Chissà che troverò in quella caverna. Sempre che il coro ti faccia entrare. Ma lui sa essere convincente in queste situazioni. Vedremo. Preparati al meglio. Ti aspettiamo sopra. Dove si riunisce il coro. Ha deciso che rimarrà. Quindi così faremo. E' abbastanza interno. Anche a te. Capite nel cuore. Sì. Sì. I campi si stanno sciupando. E anche noi. E' tutto naturale. Fa come vuoi. Io non starò con le mani in mano in attesa che la terra mi chiami a sé. Ciao ragazzi. Guardate che meraviglia raga. Bello! No! Bezzu sul mio canale. Grandissimi ragazzi. Grandi. Siete troppo mitici. Grande Bezzu. Grazie di essere passati qui da me. Questo gioco è fantastico. Io sto guardando. Guarda che roba. Vi sto guardando tutte le posizioni di Aloy. Incredibile ragazzi. Uh che bello. Che bello che siete venuti. Grazie eh. Io vi seguo sempre su Facebook. E quando posso vengo a trovarvi. Chiaramente anch'io come voi sono sempre in live. Che meraviglio sto gioco. Che meraviglia Bezzu. Eh? Incredibile questo gioco. Incredibile il web. Grandi ragazzi. Mi ha fatto tanto piacere che siete pari. Ma figlio ti ho visto in live. E ne ho approfittato. Grande. Grande. Davvero mi fa tanto piacere eh. Grazie. Ah che forte. Che forte perché sono molto molto piccolino. E mi piace. Ah. Alto là mi ha detto. Alto là. A chi? Aspetta che tiro fuori l'arco. Chi è che mi ha detto alto là? Mamma mia. Alto là. Aloy non si può sentire. A Marco Drums Games non si può dire alto là. Guarda. È talmente bello che sto zitto quando parlano. Grande Bragali. E non metto neanche la mia faccia per rovinare questo capolavoro. Sì. Sono pronta. Ci sono. Andiamoci a parlare. In realtà dovresti chiedere a Marco Drums se è pronto. Ho fatto adesso una foto che ho messo su Facebook. Bezu. Incredibile. Bellissimo. Pariglielo almeno. Incredibile no. Sì sì. È un gioco stupendo. Gameplay stupendo. Storia molto bella. Molto meglio del primo. Perché è tutta bella. Sì dai ti prego. Dai scrivimi qualcosa. L'ho messa su Facebook. Come Marco Drums. Come Marco Zanesi. Adesso la posto anche come Marco Drums Games. Perché io. In esperto ho fatto un po' di casini che. Ho attivato tipo tre account di Facebook. È un casino. Guarda. Lascia stare. È un disastro. Un disastro. La caverna sacra. È un disastro. Tiene una cosa che mi serve. Caspita. E Bezu sul canale. Su Marco Drums Games. Sono veramente contento. Cazzarola. Grazie ragazzi. Che figo. Le vostre magliette sono fantastiche. Allora ti dico. Se mi invii una maglietta delle vostre. La metto nelle mie live. È gratis. Il potere dei terrenomi è spezzato. Siamo deboli. Le storie di spiriti non ci aiutano. Niente può farlo. Che figata. Che figata. Diventando terreno per nuove vite. È grande. È l'ordine naturale. Aspetta. Quindi bene starete lì? Finché non diventerete letteralmente cibo? Per bermi. Per gatti? Ah no. Per vermi. La straniera parla. Nonostante ignori il nostro credo. Sì. Grande Bezu. Vi vedo. Vi vedo che siete troppo forti. Siete mitici. Bello Twitch. Bello Twitch. Io andavo sempre su YouTube prima. Come? Invitando te per rompere le tradizioni? Dovremmo forse adattare tutte le usanze ai capricci di chiunque arrivi a canto puro? Dovreste cambiarle perché la vostra stessa terra vi sta uccidendo. Ah, aloi. Grandissimo. Allora, grandissimo. Dopo passo anche nella tua live. Grazie tantissimo che sei venuto. Sono veramente felice. e buona giornata. Buona giornata, buona live, eh? Grazie mille. Ciao, Bezu. Salutami tutti, eh? Grandissimo. Sarebbe una figata collaborare insieme. Una bella live con Marco Drums. I Bezu boy e Marco Drums gay. Grande. Ecco, Bragali ti saluta. Ciao, ciao. Grazie, Bezu, eh? Mitici. Molto ciclo di crescita e molte. Sentito, viene dalle montagne. Questo non è un bel segno, eh? È un allarme! Eh, 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 eh. Chi sta arrivando? Avranno sfondato il cordone. Dobbiamo andare laggiù. Sì, ma il coro? Se il cordone è caduto, non c'è niente che ci impedirà di entrare. Oh, cazzo. Il tempo dei permessi è finito. Allora andiamo. Di qua, fuori dalla porta e riavante. Ok. Combattono nei campi. Eh, ragazzi, ma chi sta arrivando? Ah. Chi sta arrivando? Chi... Che macchina è? Aspetta. Macchina ignota. Inigile a provare con il cielo. Squarciamento. Ma com'è? Ma com'è? Ah, se c'era qualcosa di uno squarciamento Stai fermo, ciccio Fai fermo, che ci devo togliere quella roba qui Fai fermo, che ti devo togliere quella roba fighissima sotto la panza Fermo Ma ce l'hai proprio con me? Ma sei un cagaminchia Vai Dai calma che devo prendere tutta la roba di questa macchina qua nuova Eh, dovrei prendere anche qualche cura, eh Cioè, sinceramente, adesso parte tutto Quello che cazzo è quello lì Terraforma alfa Eh sì, lo so, nazion Quante volpi che sono morte Credi davvero che possiamo fare qualcosa? Sono lui Dai, io sono Loi Poi sono bastardi Sono velocissimi Quace I Ho Io Lo so Allora La Sì Voi 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 Ja Voi 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 adesso ci lasciamo cavato amica mare questa cosa fichissima cos'è questa cosa fichissima qua sotto che non sarei mai venuto qui a vedere devo prendere un po di risorse cazzo ne avevo 400 nel 186 raga devo davvero prendere un po di lava si lo so raga che sto prendendo la roba tra l'altro ho dovuto anche caricarmi di altre due devo sempre procurarmi un po di un po di roba vediamo altre macchine possono aspettare le macchine un'altra macchina quante macchine raga sasso blu sono macchine più forti e letali di quelle merda in quella caverna c'è molto più di minerva in terra numeri diversa non non vabbè non vabbè è non vabbè 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 non vabbè Va Sì, quello che tu dici Ha anche di ragione Però io gli ho una mano anche A fatti i scemoniti D'amore Resto di guardia Respizziamo le macchine Sono a secco Sì non hai capito mi usassi un attacco elettrico lì non posso raggiungerti devo portarla a un cuoco eccoci qua allora continuiamo ad andare avanti perchè io volevo ammazzare con le due macchine oh lo sono sto sciamolito corri corri ciccia non c'è come correre sto finendo ce l'hai la caricatore oh cazzaro oh cazzaroca mamma mia ma quanto è bello ammazzare ste macchine ragazzi ma quanto è bello coda di rasoio porca miseria mi sa che posso ampliare il livello 2 ci voleva una coda di rasoio ah la coda adesso ho capito vediamo voglio vedere se questo amore entra dentro dovrebbe essere quello solo per caricare il pad questo sentiero è la via dei terrenuti ci porterà al cordone si questo pad qua questo non te lo do no perché so già che me lo vuoi fottere si no 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 questo è il mio pad il pad il gamepad questo questo è venuto insieme alla console se te lo do e sparisce e basta è andato cosa te lo vai a comprare un altro squarciavento e questo che cos'è invece? si ho è non se palle se frecce Oh Oh ma quante cazzo stima che oggi sono Oi 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 caramba Ehi sono qua Cazzo Oh cazzo, arriva l'altro Oh ma perché c'erano tutti i commerci? Strunti Oh Cazzo di frecce Ragazzi Allora dai Cazzarola le frecce Ci sono macchine ovunque Altre macchine Possiamo farcela Con la tua guida Io distruggo quella macchina Allora ragazzi devo ricolo Forza miseria Forza miseria Perfetto Forza miseria Perfetto Perfetto Ecco Devo abbassare diciamo che sono macchine per le furbette ciao ragazzi mitici porca loca ah ecco perché sono morto prima dai di una macchina cioè non ti fanno muovere credibile ma che roba ancora la madonna due ne ho qua dai cazzo anche nooo ma muori ma porca guarda che cazzo oh minchia ma quante ce ne sono ma quante ce ne sono queste macchine non ce la facciamo cazzo non ho neanche le cose aspetta che devo andare a recuperare un po' di di via di cura ne ho solo quattro quindi non ce la faccio eh sono queste qui raggiungiamo il cortone ma forse via che ci sono le cure sei di dodici quella lì sei di dodici aspetta ma qua ci sono mi curo eh ragazzi è tosto eh è tosto già normale diciamo che fa il culo come direbbero i più raffinati fa il culetto ne prendo altre due beh interessante potrebbe tornare utile allora ragazzo ancora per averci è tratto di prendere cura delle mie piante mia assenza molti non capiscono che voglio lasciare i bot puri e rifornire il conto e come dici tu ai vivi dovrebbero padare i vivi come codice d'accesso l'anno seguita l'albero bla 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 l'albero vabbè se ne fotte ok bellissimo oh cazzarola guardate lì io che stavo cercando due cure mi sono ritrovato a avere una roba fichissima oh cazzo no stai calmo eh allora stai calmo ok no qui no mi sono arrivato per caso e devo dire che non è stata una bella scoperta qui sono tutte cose che sono utili esaminiamo i dati collezionabili allora da quanti anni vengono noi conosceranno di costruzione della stazione non è stato fondamentale tutte le menzioni ma ti mai è capitato di stare da parte esterna la struttura è difficile non notarlo ho subito qualche motivo familiare dei figli c'è un motivo ricordano lo storico però volevo guardarti ciao bravo serve un modulo chiave per aprire questa porta ne cercherò uno tra le rovine ok quindi qui ci facciamo un po' con niente allora diciamo che qui c'è qualcosa io dovrei andare lì secondo me ci si può rampicare di qua ah non ce l'ampica lei è un carrello antico forse può ancora muoversi va bene chi ha un carrello sto tirando grande dai no allora ho capito perché fine della corsa allora uno forse bisogna andarsi di qua prima cosa seconda cosa no assolutamente no che cazzo che figata c'è anche un cinghiale ci facciamo una bella una bella pepata di cose allora quindi io avevo capito una cosa ma probabilmente bollava quante macchine ci sono là che fatica ah è là che devo andare ma che bordello ma che si stanno scannando vediamo che cazzo non ho visto qua vaffanculo dritto nella scorta fai cazzo e stai a guardare ah quella però posso figarla io ho bisogno con la coda ho bisogno con la codina io ho bisogno con la coda per creare i potenziamenti e quel pezzo di sotto no me l'hanno ammazzato e quando muore la macchina non posso più staccare i pezzi è morta basta porca loca ma questo non me l'aspettavo cazzo di macchina che esplode che infatti che burdele ok ma è un povero ribelle vabbè qui non era e questi sono esplosi tutti sono saltati in aria quando la macchina è partita questa è una roba qua vedi questo è un modulo cazzo devo staccare la coda di quel cretino di roboli perché scappano come i ricoglioni di qua poi di lì poi di là poi di lì c'è un pesce guarda che roba ci sta aspetta che facciamo così scriviamo grigliatina come è il mio telefono aspetta c'è la foto mode andiamo alla foto mode è bella così si capisce nascondi hub anch'io faccio le foto mode raga ok ok allora voi continuate ad andare avanti a fare avanti e indietro allora no dove cazzo era la reliquia lì c'era il carrello ma dai non è possibile mi sono dimenticato qui c'è i qui c'è i cosi rovine del mondo antico potrebbe esserci qualcosa di utile dovrei dare un'occhiata proviamo così controlla i binari eh vedi vedi la servia per salire ma qua non serve a niente invece vado qua mi serve per per avere il per salcare per avere la pezza giusta per poter salcare ok vediamo se ho avuto di ragione ah vedi visto ti dico c'è una reliquia in quella stanza come ci entro bene cosa c'è qui ho il code un modulo chiave perfetto porca loca mica tanto mi stavo ammazzando si ho dovuto spostare tutto quel burdel ciao ragazzi benvenuti mitici Horizon Zero Dawn stiamo andando avanti benissimo con la storia è bellissimo mi tornerà utile è anche difficile ma cosa 7482 ma perché non va sta merda serve un codice forse posso recuperarlo qui in giro no 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 secondo me è qua non c'è nessun codice che parola spacco la porta eh magari una reliquia e ci arrivo allora ecco già che ha detto questo sarò lì però non credo che qui vedi dentro lì non posso spostarti il carrello ti aspetterò qui allora secondo me devo spaccare il vagone quando lo rilasci praticamente non va da solo adesso c'è un punto dove c'è il cambio binario qui come ho fatto prima certo che è un vagone arrugginito non credo che sia così facile da spostare però è anche vero che lei ha l'olio ora i binari sono collegati alla porta sì chi chi che figo eh guarda bene guarda bene vediamo l'unitatore che spero che spatti tutto no un cazzo se magari mi sali sul carretto perfetto lo tengo da parte per dopo adesso devo vedere se da qua si riesce ad andare dentro tu puoi aspettarmi dove vuoi quale? aspetta aspetta amore mio vuoi andare su aloi o no? prevenire i brividi da valigli questo ma come si inserisce una porca no vabbè non c'entra niente allora valutiamo un attimo salute proliferazione ribida cristallino funginia aspetta un secondo perché o si va da sotto ecco la funginia qua tanto non serve a niente proviamo così ma rilasciano? io pensavo che gli andava addosso spaccolatici lì non posso raggiungerti ecco perché cuttile di vino posso raggiungerti? bisogna capire come salire qui c'è una corda e la corda arriva da eh da quella porta lì allora qua dentro forse c'è qualcosa sicuro c'è il codice è utile niente qui c'è il codice qui c'è il codice qui c'è il codice adesso sono eliminati perché ho fatto questa roba qua questo che è quello che ti fa vedere ma è possibile che non c'è sul codice qua questo è bello tosto raghi perché serve sto codiciozzo e passami il codice invece di dire sono qui sono là sono enigmi questi capito? da su non mi fa andare va bene riprovo a mettere il carro lì magari invece di andare in fondo lo metto dove c'è l'insegna come dicevi tu l'insegna lì mi dà qualcosa eh? eh ora i binari sono drizzi non so c'era su quel carattino anche quello mi ispirava qualcosa non c'è prendiamoci prima porca loca no meglio controllare i miei punti dati meglio controllare i miei punti dati che cosa vuol dire scusami aloi i punti dati what? che fatica non vorrei che ci sia un buco ma questo per dire eh eh aspetta un attimo questo fa parte anche lui eh questo finisce nella scorta ma a volte dice le cose cazzo che mi sembra che ho fatto una cosa figa oh minchia oh minchia ho bisogno della tua cosa testa di cazzo scusate ragazzi ok è che ti guarda solo un caffiamo ma vai cagare ma sto scemo che si è messo davanti ma quanti ce n'è mi sono incastrato anche nelle mura io oh porca oh sei proprio strunzo eh cazzo tu la tua coda oh si sposta sempre che la coda è quella cosa più figa di sua no che ha cazzo sei oh oh che palle queste munizioni dopo c'è una funzione che me le fa in automatico eh si con lo sblocco subito che quella delle frecce che dovevo farle io è una rotina oh caglio a me l'ho ammolato la cosa testa di minchia oh la coda adesso già vuoi vedere ma devo recuperare anche qualche fogliolina guarda che sono già rimasto senza vita lo prendo io questo sono io ah ah questa è bella vedi qua sono le rovine magari ci entrano con quella la che cos'è sto roba che cos'è sto roba che cosa si è colpiti oh oh cazzo guarda che quando arriva ah stai calmo fatti i cazzi tuoi stiamo visto oh cazzo non arriva un altro si si e non so per le macchine per mai sicuro e poi quanti ne arrivano qua eh serve per per le armi per ampliare le armi una ne serve però sono sicuro che per ampliare le armi poi dopo servono ne serviranno più di una ma forca puzzola quando fa così lei sta si deve chiudere le orecchie oh cazzo di vintus eccola qua grande cosa si ma adesso dovrei porca si ma io non ho pure oh mio amore mio poi mi sono allontanato tantissimo ci do il punto là tutte le rovine era questo giusto si queste erano le rovine questo l'ho visto dopo ho detto va che qua sicuramente c'è qualcosa c'erano 100 milioni di macchine queste rovine mi sembra che non ci sia niente proprio aspetta occasione ideale per le munizioni fulminanti presagio oscurante allora io direi che qui non c'è una sega questa scemota non vale a rimanere questa è una casa sbaroccata queste sono tutte case sbaroccate questa è stata un'occazione e questo è un'occazione si è un'occasione la 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 Questi esplodono praticamente una volta che li chiedi a tutti. Questi servono per fare le cure. Questo qua serve, questo qua serve. Serve un po' tutto, serve. Trano i sassi. Mi sa se ce ne giro un voto. Mi sa se non servono un cazzo. keep talking to me. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Raga. Allora, Bums. Viaggio, la nuova, vediamo se c'è un codice vero ma stavolo. un passato, un pensato, un allersero, porca miseria, non c'è un codice qua, 1065 può essere? Surfed 1065, ma dopo sono di più di 4, l'unico è 1065, l'altro è 7180, invece lui è 1065, proviamo 1065, tanto che ce ne fotte, no? Aspetta che già che siamo qua, sennò poi devo tornarci, quello che cos'è? Scoiattolo, quello che cos'è? Un cazzo, un animale, vabbè proviamo 1065 abbiamo detto, eh? Madonna, ci sono proprio andato lontanissimo, eh? Oh, non è che tutto sto casino poi c'era su qualcosa da sopra, è stato un secondo, ma... Sulle pareti? E perché mi dice che sulle pareti deve esserci scritto l'anno di costruzione in questo posto? Non è che è il... Eh? Dove? 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 Vedi qui, il mio bambino si riconosceva un 40, ah no, sembra un 40... Ah, 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 infatti non l'ho visto, ho detto, no? Dove? 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 Amore mio... Ho 10? No, non ero 62, no, non ero 62, no, non incasinarmi, dai, davvero, non te lo ricordi? Serve un modulo chiave per aprire questa porta, ne cercherò uno tra le rovine, niente... Tra le rovine, metti qua un punto, è tra le rovine, Marco, ti ha detto, di cercare tra le rovine, Allora bisogna vedere tutte le rovine... Sì, ma statti fa ha rotto un po' i coglioni, nel senso, dai, fatemi vedere questa roba... Ho scritto nelle rovine, vanno detto... Quindi sarà 1800 e... cosa? Ti aspetterò qui, giù! Ah... Non puoi dirmi l'anno, cazzo me ne frega... Le rovine potete impirare... Eh, ma le rovine dove cazzo? Le rovine... Questo è tutto una rovina, secondo me... Sì, lo so, però non ho fatto chiaro... Un minuto... Ci deve essere un muro dentro nei... Però il codice di ricorda... Ciao ragazzi, benvenuti... Stiamo cercando i codici nelle rovine... Non poteva scriverlo sul tavolo... Lì non posso raggiungerti... Sì, però... C'è una tipa che mi deve dire qualcosa... Nelle rovine... Cazzo... Ma c'è una rovina... Eccolo qua... Nooo... 6, 2, 3... Vai... Ma dai... 1, 6, 2, 3... Vai... Grande... Amore mio... 1, 6... Era in grande anche eh... Cioè... Non è che era scritto in piccolo eh... Ma basta... È ingolore... In un giro... Si, dai... Mi vuoi dire che hai durato. Se ne hai fatto così bene... Cosa che era? 1, 2, 6, 2, 3... Fff... Io me l'ho già dimenticato... Niente da fare Oh 1, 6, 2, 3 1, 6, 2, 3 1, 3, 2, 6 No, non credo Allora, e ha detto che era? 1, 6, 2, 3 1, 6, 2, 3 6 1, 2, 3, 2 Niente da fare Ma no 1, 2, 3, metti 6, 1, 2, 3 No, ma perché ho sbagliato Niente Aspetta 3, 6, 2, 1 No, non è questo 3, 1, 6, 2 Niente da fare Eh sì, infatti Vediamo un attimo come cazzo sto numero 3, 2, 6, 1 3, 2, 6, 1 Mi aspetterò qui Perché il 6 è giù? 1, 2 1, 9 1, 9, 2, 3 Grandissimo È vero, è caduto 1, 9, 2, 3 Giusto? Sì Ricordamelo perché ora che arriviamo 1, 9, 2, 3 1, 9, 2, 3 1, 9, 2, 3 Ecco Grande, amore mio Intelligentissima, grazie E mo? E mo cazzo giù qui E per stare lì facevi il giro di là Davvero? Non si attacca la corda Scusa, ma non c'è una roma No No, dovrebbe esserci una corda Eh no, da lì vado all'altra parte Oh, ma salti su Ciccia C'è la corda C'è Ah, sì Eh, ma cazzo Non si attacca sta merda Perché non si attacca la corda? Non è che se ti deve lanciare così Ho questa corda, eh? No, magari te devi lanciare i cordi Che ficcio Che mi faccia volare di là Non c'è il senso con la corda Se c'avi XX In teoria C'è il senso con la corda 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 Aspetta Vai in scara lì Magari In quel coso là Oh, porca miseria Tu non riesci a sprendere lì La corda Eh, io saltavo col Porca putzola Eh, beh, per forza Perché Non c'è altro Altro modo di Oh, cazzo Quando salta dove vuole lei Così Il cerchio Olli Che fai il bagno adesso Che fai il bagno adesso Vedi Cazzo, ma no Ma sta scemonita Non c'è, salta giù Vabbè, adesso andiamo avanti con la storia Massimo, ci ritorniamo Eh, no, non salta Vediamo Vediamo Allora, un attimo Che tu vai E tu vai, schiacci XX E lui salta Salta sopra, no? Non hai niente Perchè Perchè Vedo Firma cordoni Cos'è il cordone? Ah, quello è la missione principale Anzi, Twitch Che si è tolto Mi ha schiacciato Bolivia Eh, no Vabbè, trovo l'ultima volta Andiamo avanti con Seguire la missione principale Bisogna Pettere sulla polenta Eh, beh, fai lo caricare Sì, sicura che carica con la custodia? No Ciao ragazzi Mettici Stiamo vedendo un attimo Di andare avanti qui col coso Cazzo, Olivia Ecco Mettilo Potremmo mettere a caricare Allora, Olivia Mi sta schiacciando il pad Eh, calma, Olivia Allora, sto cercando Di andare avanti qui Eh È quello che ti ho dato prima Eh, non mi ha dato tutto giusto Ma vai mettere il culo Ma vai Dai Eh, no Non Vabbè, niente, dai Adesso te lo attacco di là Non riuscivo a E voglio ridarmelo Non posso arrivare fino là Ok ragazzi Allora Riandiamo Allora, questo gioco ragazzi È fantastico Stavo cercando di fare una cosa Un po' incasinata Ma non ci sono giusto Stavo stare attenta A non macchiarmi le mani Allora La missione è di qua A 17 metri Qua Adesso è quella È quella tosta Facciamo un po' di regnetti Facciamo un po' di frecce Tutto a posto È quella di prima Che c'è un sacco di Ciao ciao È arrivata la nonna Oh, guarda questo Che bordello Che sta facendo Che c'è un po' di regnetti Che c'è un po' di regnetti Ehm Allora Ehm Sono già senza munizioni Ma quanto durano 20 frecce Non durano niente oh la madonna ma chi l'è che è oh crepa i pazzini sono una rotta di coglione dai mi ha trombato l'altro è ancora senza munizioni oh la la oh la la sto qua ha rotto proprio le coglione oh che legnata oh sono intelligenti comunque adesso voglio adesso questa cosa idiota sono finiti? eh si qua è la macchina oh scalotta dov'è? ho cacciato macchine più grosse adc prendiamo un po' qua perchè qua sto finendo frecce a tutto il piano non vedo voglio ragazzi di sbloccare la cosa automatica ma dai potevo sparare con questo c'è ancora una macchina in giro? ah eccola la assolutamente si ma porca come cazzo si fa? ah adesso al cordone eh si hai visto come lo prende? eh si è la loro è la loro come che ti stanno prendendo con la con l'arberta che c'è lì? ovviamente sarà fichissima con l'arberta di fare la quattrolla di miracoloso però anche sto la riso a prendere può essere trasformato in tintura ma è verità ah in due solo ne ho andiamo di qua riusciamo quale danno a cadere giù mi viene le vertigine quando ok quindi dobbiamo andare di lì eh una macchina rinchiata qua fammi vedere come si fa su sta corda no allora se però dall'altra parte se vado su vediamo se lo fa e dovrebbe farlo in teoria eh secondo me si solo che messa come era là beh appunto al gusto questo andava sparato prima quando c'erano le macchine che c'è un ammazzagardo tre volte eh vedi tipo no? che c'è? che c'è? che c'è? è in cima c'è da qui il bambino allora vediamo l'altro che è alto guarda vediamo eh eh tu devi farlo dire vedi che con la X basta va in automatico oh un bel bidone io prendo tutto perché è tutto gratis qua cazzo sono rimasto davvero senza senza cura incredibile e anche a legnetti mi aveva una marea ma lo recupero più tardi dalla scorta non so se non è quant'è oh 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 eh guarda chi c'è squarciavento cazzo me l'hanno avanzato bastardi si piove sta diventando un po' buio va magari un po' buio perché sta piovendo il cordone in ciò che ne rimane quanti morti li piangeremo a non l'ultimo ora dobbiamo sicurare un orologio che è tutta un bel mazzo di roba verde ribellula io sono ribello non attardiamoci ah forziere davvero grande mi ha dato una un abito eh sì che mi ha dato un abito eh sì ti piace di più così così questo ci sta modifica tessuti allora vediamo un attimo eh io darei danni inflitti all'acqua al plasma così ho un po' più di no ma anche questo dai mettiamo sto slot ah che bello mi ha dato un abitino nuovo oh come sta bene eh sì hai ragione amo entriamo nella c'è i direni anche sulle braccia che i terra non ci perdomino sono nell'arco l'arco quello c'è tipo una specie di muro fatto come dice queste cose io non le ho mai viste scudo energetico che meraviglia vedete che lo prendo è questa che rovina no no Zoe le verti dai coglioni potrei usarlo per colorare la mia armatura anche loro mi ceguano aia cosa c'è ricorda un calderone oh l'override sulla porta poca miseria ragazzi che un po' sono indietro è tutto gratis devo prenderla oi c'è qualche macchina oh mio dio oh mio dio oh mio dio no sulla tempia così guarda c'è una luce blu si ci abituirai tranquilla ti aiuto ascoltate abbiamo visto delle macchine diverse più pericolose significa che c'è qualcosa di molto potente oltre quella porta e ci vuole morti seguite seguite e state pronti wow andiamo dobbiamo arrivare al nucleo di questo posto queste è tutto di merito chi l'ha costruito macchine come non ne hai mai viste le macchine praticamente sono state ipermigli intelligenti e si sono fatti il loro mondo dopo sono andate in pappa di cervello e hanno ci sono macchine ci sono le macchine vediamo che saranno nuove sono un po' da tutta sono un po' da tutta ecco qua ok uno è andato stai ma la sono seduta su qualche cazzo cazzo che munizioni inizia oh guarda oh hai visto che l'ho fatto che stronza se ti prendi con la questo è un calderone le macchine nascono qui sembra di sì ma se i terranumi vanno e vengono non solo ci nascono qui vengono anche riparati e il spirito e il cerchio mi merda può darsi come ci sia da ragazzi va che roba che meraviglia questa lava tiriamo l'override al calderone madonna guarda che ne chiede che roba incredibile eh questa roba incredibile che roba i colori infezione quella cosa ci vuole morti prende il controllo di posti simili per creare macchine assassine si chiama Efesto anche la montagna è morce fino a quei cavi ci impediscono di arrampicarci aspettatemi qui vado a cercare un'altra strada la venta va bene cosa sono quei pannelli carterra ah 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 salendo su questo pannello certe sezioni delle colume ruotano Cosa? qui è tutto particolare fatto che sono anche incartellato devo andare su però aspetta questa scemonista stavano parallici? anche di quattro allora qua ok devo coprire l'ingranaggio adesso vero a quando va dritto vedi che rallenta quando ti illumina fa fan cuore ok dai nell'angolino io pensavo che ci doveva lineare qua fa fan cuore te lo pagi ho detto ecco la che sale eh eccola che sale adesso tutti i giochi allora qua non si può andare chiaramente c'è un altro pannello quindi immagina un po' un altro pannello ma da qui non riesco a colpire l'ingranaggio forse posso trovare un peso per bloccarlo un peso forse posso trovare un porca chi lo sa chi pensava non riesco a farla passare da lì bene ci sono quasi vedi io non riesco a vantare da quello lobo lì ma questo lobo qua sì perché è di lì di eh che fa se riesco a posizionarle bene posso usarle per un'altra persona ecco dovrei avere sposto gli ingranaggi sulla colonna ci sono da su proprio qua non c'è un gas ingranaggi sulla colonna ci sono solo due colonna ah queste va va fa un eh sono rimasto senza munizione porca adesso ho aspettato tutto il giro questo è veramente bello anche da guardare questo gioco eh vero lei ha detto che dovrei uscire riuscire a a farselo però in realtà è Marco Granz che deve farlo eh tu non è che fai tanto a noi non cadere a noi eh bravo che me l'hai detto ne questa lì ecco ci sono quasi un'altra serie di colonne devo solo trovare un pannello per attivarle uh lingotto di ferro oh pianta medicinale che belli sti scenari vabbè sappiamo già com'è cazzo c'è la colonna grazie grazie hai visto l'ultimo dov'è? inculato là sopra grazie infatti fatto ragazzi guardate la magnificenza di sto posto quante cose quanti dettagli eh? ma quanta roba quanti colori guarda queste luci qua accese che roba fichissima che è ormai si pensa non si riesce a vedere davvero il lavoro che fa sta gente qua incredibile creare queste zone questi punti è qualcosa di più coperto dai cavi di efesto e quindi? forse posso disabatturarlo mmm ah questo è è lo sciomunito che devo esplode no si ritirano possiamo raggiungere quel condotto che cazzo? ah sta arrivando già arrivato mezz'ora ci posso andare su come attraversiamo? c'è un nodo coperto di cavi sull'altro lato vedo se riesco a raggiungerlo ci aspettiamo qui devo andare su di qua perché non vedo altro giusto? c'è poca miseria però c'è questo eh aspetta c'è quello spuntone dai cazzona non va oh oh dai cosa hai fatto Aloy? che buscio di oh 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 stai calma stai calma adesso non mi preghi più lo so che si spacca però oh ossa di metallo utilissima per fare il brodo allora questo schifo di Robo Blue devo fare devo tirarlo fuori dalle scatole chiaramente dove sarà? qui non è che ci merda sei seria? tutto bene laggiù? si è caduta? non ci posso credere mi ha visto un coso qui che sale e scende però si e l'ultima l'ha fatta a minchia allora non scendevano sti cosi? un po' poco ci frega bellissima la live di oggi ragazzi tanti di voi e anche i grandi Betsy Boll sono entrati la mia live adesso devo rifarmi tutto il giro cazzarola Marco stai più attento secondo me è proprio automatico che va indietro no in realtà no ascolta ah si infatti se a cui è possibile che non c'è davvero niente un cazzo devo andare di là giusto? non c'è davvero non c'è davvero non c'è davvero si è ficcabile come cazzo è davvero ma forse sai cosa devo fare? devo fare così hai visto? oh cazzarola tutto regolare non c'è che a volte mi fa venire un po' la cosa dell'altezza siamo? ansia sì sì forza attraversate ah vedi? loro belli belli che arrivano qui guardali hai capito? è facile la vita così Aloy va avanti trasferire armi primarie a unità G modello 1 ma chi ha raggiunto la voce? questo è Gigi era beccato al bar matrice gamma 5 bellissimo ma lo faccio già Gigi vieni a rifare la voce di video gioco aggiungo il nodo sull'altezza va bene pagatemi una birretta pagatemi una birretta e siamo a posto e allora sì ma sto Horizon ragazzi è molto più incasinato dell'altro non fermiamoci aumento volume del 20 nel centro allora loro non posso andare su sulle navi lì non posso planare premi per cadere qui è fuoco secondo me devo andare là cosa mi dici tu? lì eh? io devo andare là però che è il calderone tra l'altro che è la fine però non posso planare perché se salto mi cade sulle navi non posso andare no per inflavare fino davanti qui eh mo? caricare armamenti invitata A59 AB24 c'è un carto mi sto facendo una domanda anch'io ah è vero ah ah eh lo visita ah ah è come gli altri ah di qua di qua di qua di qua vedi che si lampe oioioioi caramba cos'è sta roba schichissima tra l'altro avvio avvio ciclo condotto miliario 9 H X cos'è? scusate l'energia che c'è un passaggio qua amore mio qui c'è un passaggio calcolo armamenti completato forse posso farmi dare un passaggio ah sulle navi eh allora devo beccare la nave giusta però eh però vedi che lo faccio in tutto aumentare dotazioni incendiaria unitaggi modello ok però poi con arrivo di nel fuoco eh dovrò saltare saltare un'altra stai risolendo un sacco di armi tacco ma arrivare matrice ma valli? si si ci va ci va perché fa fa un po' adesso a sinistra no ma questa scema non va di qui eh ma è già di là sono arrivata posso scendere bene e adesso e adesso e adesso andiamo a domenica da me il 5 non c'è di tu non lo so mi sa che devo andare stio questa qua come mai è ferma? no ma queste non sono mai eliminate non sono trasferire pacchetti secondari agli hangar materiali 5 e 12 ma ascolti io devo andare di ricazzo ma c'è aperta la porta dove volevo andare? questo è una cosa fichissima quando è questo colore melma volatile ho già usato strutture simili per costruire macchine assassine ma non è sempre stato ostile un tempo faceva parte di qualcosa di buono chissà 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 che costruiscono le macchine? eh? eh? la trasformata in arma con le macchine che creano le macchine e poi canto bruno se vedessero cos'è diventato se un terranume li attaccassi sai cosa dobbiamo fare? va bene sei pronto? ora dobbiamo scendere con l'amor flamare l'amore sanguicorno amore mio si adesso flamiamo non è stato lì amore non è stato lì amore non è stato lì amore non è stato lì mezzo ahahahahha però però va a essere giù adesso? 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 adesso sono cari ci sono anche altre macchine tra l'altro la madonna ci prende anche da 170 chilometri di vita non credo che c'è problema oh cazzo si è incastrato questa merda qui è difficile raga forza ma quanto è grande? non lo so come sei se sei un macchino piccolino? no ma sei un grande in carna no vedi quello che dice eh non si può fare niente vai che vuole dire che non si può c'è un po' di risova qua eh si no è un vestito del merda tutto questo ma porca puttola ma porca puttola ma è che sono andato che non ha perciato mai eh? eh eh no 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 e va perché c'è tutti quei cazzo di piccolini ma che cazzo è che l'ha sparata questa adesso non so più cure porca puttola no merda tutto bene no? non credo proprio tu che dici? devo andare lì secondo te allora secondo me devo fare a fammi vedere un attimo questa cazzo di macchina cosa allora esplosione staccabile ma un po' esplosione arma utilizzabile ma il problema è che staccarsi scusa l'ha? no scusa del getico questo cazzo è che arrivano anche gli altri però aspetta apri gli scusi c'è più roba di me questo questo devo capire la sacca è piena ma ho spazio nello zai questo cazzo è un'altra cosa e cos'è? sono trappole è un'altra cosa e devi mettere due o non le trappole di me quindi quando dico apri e rischi le genetiche scuole lì non c'è la mia quella cordone lì questo è questo? mh? le trappole delle bombe delle zamette perché non me la piazza? scusa che lì non c'è la scuola che cosa c'era a dire? che non c'è la scuola lui esce esce non può avere più rispetto no lo spazio è insufficiente ah forse lì sopra non c'è la scuola non c'è la scuola che cosa c'è lì? che cosa c'è lì? un quadrato da muo' lì non mi fa il figlio del cazzo mica le bano ma dico spazio è insufficiente fammi vedere un attimino anche perché magari ho le abilità ne ho 4 adesso qua poi scemo allora superstite dai un po' di cura in più punti abilità perché ne vuole 5 incredibile ho lì non saltare grazie allora ragazzi qui è la vedo bella bella dura eh grazie 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 allora dai facciamo questo ciao bragari grazie mille di essere stata qui con me mi ha fatto molto piacere va bene va bene anch'io continuo dopo spazio è insufficiente nella sacca ah è questo che stavo vedendo nella sacca io arrivo qui e poi ci vediamo dopo ragazzi eh va bene allora facciamo così no no non era dentro bella ragazzi dai 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 che facciamo il mostro mi ha fatto l'inclusivo rilevato schierare G modello 1 ecco fatto ci sono cose ci sono cose altre macchine in arrivo con le dalle di ghiacciato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, che stronti. 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 Oh. Che stronti. Oh, 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 che stronti. E con un'azione con nove funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, Scudito e protetto Dalle macchine E con lei scoprì il segreto più grande di tutti Il segreto della sua nascita Lei è un clone di Elisabeth Sobeck Creatrice di Zero Dawn Sorto per impedire una nuova estinzione Opera di Ade Unia malevola Resa senziente da un segnale misterioso Di origine sconosciuta E con un mio piccolo aiuto Lei ha prevalso nella battaglia finale ameridiana Diventando una paladina dell'umanità Ma per quanto mi sia stata utile Ora sono costretto ad abbandonarla Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade Io ho fatto una nuova scoperta Che porterà a distruzione E opportunità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti